greta e sergio reduci dalla loro esperienza nella casa del grande fratello festeggiano un giorno molto importante per loro ecco di cosa si tratta graterossetti è riuscita a far ricredere parecchi italiani con il suo ingresso nella casa del grande fratello da molti era vista come il terzo incomodo colei che si era insinuata a temptation island nella coppia formata da mirco e perla portando via brunetti al lavatiero e sfaldando una storia d'amore destinata a diventare qualcosa di serio e definitivo in realtà non è certo stata lei la colpevole e questo la stessa perla lo ha capito molto bene le due fianco fianco sotto lo stesso tetto sono addirittura diventate amiche il pubblico piano piano ha imparato a conoscere la rossetti capendo che non è la vamp spietata e solo focalizzata sull'aspetto estetico che tanti hanno dipinto nel corso dei mesi precedenti questo infatti ha generato delle insicurezze che greta pian piano a contatto con il reality di canale 5 è riuscita in parte a superare la storia con sergio di ottavi con cui ha fatto fatica a lasciarsi andare sembra che l'abbia fatta rinascere e a tal proposito i due oggi festeggiano qualcosa di molto importante greta e sergio il primo giorno speciale dopo il grande fratello greta e sergio sono inseparabili ora che il reality si è concluso la rossetti per via anche di qualche titubanza espressa da sua mamma marcella ha fatto fatica a lasciarsi andare con l'inquilino i due sono stati per svariato tempo molto vicini tra confidenze e tenerezze senza spingersi mai troppo oltre un mese fa però la nuova greta ha deciso di lasciarsi alle spalle i giudizi severi della gente sia dei follower che delle persone che fanno parte della sua vita esattamente un mese fa infatti i due si sono scambiati coccole ben più consistenti e il loro primo bacio da quel momento non si sono più separati decidendo di continuare con la loro storia d'amore anche una volta terminato il reality e fregandosene di tutte le critiche che avrebbero potuto ricevere in seguito questo è tutto l'entusiasmo della giovane che sul suo profilo instagram ha ricordato grazie alle pagine dei fan il momento più bello insieme a quello che ormai è diventato il suo fidanzato e che le è vicino spesso da quando non vivono più sotto lo stesso tetto questa relazione sembra essere dunque proiettata verso un futuro insieme fatto di progetti e tantissimi altri momenti come questo il primo giorno speciale insieme dopo l'uscita dalla casa del grande fratello